La stazione l'abbiamo già creata in 1975, nell'89 diventa museo nazionale, purtroppo è stato vissuto tra i giorni e vicende, la fondazione nasce nel 2013, inizia a restaurarla nel 2015, la parella non gli augura due anni dopo, questa è la storia. Ci abbiamo girato anche il nostro treno verde, non è niente. Adesso vedrai quel po' più. Il nome della fondazione ferrovie dello Stato che loro dirige è un gruppo di rigenerazione di un paio, che tra questo è il luogo della memoria delle nostre ferrovie, ma non una memoria